La Scandone è già lanciata verso la terza trasferta europea in stagione. Domani alle 18.30, ore italiane, sarà palla a due con lo Stelmet Zielona Gora. In Polonia la chance di calare il poker tra Serie A e Champions. La vittoria con Cantu ha visto anche la presenza a bordo campo di Shane Laval. Ecco le sue prime sensazioni da bianco-wirde. Sono felice di essere qui. Ho visto la partita contro Cantu e sono entusiasta della squadra e delle nostre possibilità di far bene in Champions League e in campionato. Credo che la cosa migliore che possa fare per la squadra adesso è concentrarmi per rientrare quanto prima. Ma non voglio solo tornare disponibile, ma quanto più forte possibile. Voglio essere lo stesso di prima. Su Avellino e sulla Scandone il centro nigeriano è molto chiaro. Ringrazia la società e con la canotta dei lupi punta la rivincita in carriera dopo 18 mesi di stop. Per me è un'occasione per dimostrare che sono quello che tutti credevano un paio d'anni fa. A Barcellona avevo iniziato bene. Fino all'infortunio avevo un ottimo rendimento. E questa è una cosa importante perché si arriva a una certa età nella carriera di un giocatore in cui tutti dicono sei infortunato, sei troppo vecchio. Perciò questa per me è l'occasione per dimostrare che sono sempre lo stesso mostro di prima.